Ragazzi il conte è pronto, vi ricordate il discorso che ho fatto ieri in live? Che lui ultimamente non so cosa sta escogitando, se è verità oppure è una cosa contro di me Che quando esce si guarda intorno perché si sente pedinato, osservato Mi ha detto che lo stanno quasi per rapire Ora vi faccio vedere quando lui esce cosa fa, diciamo, quando esce dal portone Cioè loro faccia avvirre Aspettate Ragazzi come vedete io sono anche con la macchina accesa Sto aspettando a lui, guardate cosa fa quando esce Eh Sbrigati, già ho la macchina accesa Chi vai vai Eh Ma che è Che stai facendo? Devi salire in macchina Esci con la macchina, metti qui qua Esco Vabbè ragazzi esco la macchina, se no non si vede No vabbè Guardate dov'è ragazzi Ma che sta facendo? Guardate ragazzi Ma che sta facendo? Vai vai Ma che stai facendo? Scappa Scappa Qua mi guardano Ma chi c'è? Secondo me mi vogliono rapire Saluta va Saluta Ragazzi è tutte le volte così ormai da tre giorni Boh non lo so Vabbè ragazzi a dopo No vabbè